È un'esperienza forte dove si viene messi a dura prova ma dove fa capire anche molto la grande forza che hanno ad esempio i bambini. Siamo stati costretti a riconsiderare tante cose del nostro lavoro ma anche tante cose del nostro modo di vivere la vita quotidiana. Dal Cairo li hanno accompagnati in Italia dove sono stati presi in carico dei vari ospedali pediatrici della penisola. Assieme ai bambini palestinesi provenienti dalla striscia di Gaza c'erano infatti anche due sanitari aretini. Hanno viaggiato su due aree messe a disposizione dall'aeronautica militare e dalla guardia di finanza. È stata una cosa che si prevedeva come stata impegnativa anche perché ci siamo trovati a muoverci in un contesto socioculturale completamente diverso dal nostro. In tutto 16 minori assieme ai loro genitori che si sono lasciati gli orrori della guerra alle spalle sono stati accolti nelle strutture sanitarie nazionali. Veder le loro reazioni quando ad esempio essendo dentro l'aeroporto militare decollava un aereo o è successo che un palloncino è esploso dentro l'aeroporto e i bambini si sono impauriti in maniera esponenziale rispetto a come potremmo fare noi o i nostri bambini fa capire comunque il trauma che ci può essere sotto. Tra loro c'è chi ha patologie croniche importanti ma anche chi ha riportato pesanti ferite negli scontri a fuoco e nei bombardamenti. Vedere insomma intere famiglie, intere no perché purtroppo ogni famiglia portava un lutto, una privazione, venire via con due proprio bustine di plastica in croce, una valigina con tutti i loro averi ovviamente non è che ti può lasciare indifferente. Purtroppo un piccolo di sei mesi non ce l'ha fatta, è deceduto durante il viaggio verso l'ospedale Niguarta di Milano. Si cerca di dare il massimo per fare tutto il bene che riusciamo a fare, a fare la nostra professione nel migliore dei modi. Purtroppo non sempre riusciamo a chiudere il cerchio.